E infatti gli astrofili sono appunto una comunità molto stimolante per noi professionisti mi ricordo una volta che eravamo ad una conferenza in Cile un gruppo di astronomi, siamo andati in un osservatorio di astrofili e gli astrofili insegnavano a noi come usare il telescopio io tra l'altro sono un teorico, grazie per la presentazione io mi occupo di teorie in generale quindi non sono affatto un esperto dal punto di vista osservativo anche se ultimamente mi sto un po' muovendo verso le osservazioni e appunto ho una doppia vita, ho una vita come teorico dei buchi neri e della dinamica e della microdinamica associata ai buchi neri e un'altra vita che è quella che vi mostro stasera che invece riguarda i pianeti e in particolare i pianeti, come c'è scritto qua nel titolo pianeti al di fuori del sistema solare quindi esso pianeti e ancora più in particolare in realtà ciò che mi interessa e ciò di cui poi vi voglio parlare anche più in dettaglio sono i meccanismi che adesso possiamo studiare concretamente, osservativamente di formazione non soltanto pianeti già formati attorno a stelle come il Sole per esempio ma pianeti attorno a stelle giovani in cui appunto i pianeti abitano ancora nell'ambiente in cui si sono formati due parole sui pianeti extracolari appunto immagino che voi essendo astrofini molte di queste cose le sappiate già ma comincio a introdurre un po' il tema un anno chiave per noi è stato il 1995 che l'anno in cui appunto il primo pianeta attorno a una stella di sequenza principale è stato scoperto si tratta di 51 Pegasi B ma io ero che lo sono i due astronomisti che hanno scoperto questo pianeta poi torneremo fra un attimo a 51 Pegasi B però appunto secondo me a me ha sempre colpito questo fatto cioè che il primo pianeta al di fuori del nostro sistema solare sia stato scoperto tutto sommato recentemente cioè fino al 95 non avevamo idea di come potessero essere i pianeti attorno a altre stelle e questo è una cosa molto importante se uno lo guarda dal punto di vista teorico perché se noi siamo interessati a capire qual è il meccanismo di formazione di un sistema solare fino al 95 avevamo un solo esempio come un'unica realizzazione di questo processo cioè il nostro sistema solare e chiaramente tutti i modelli di formazione planetaria erano fatti per cercare di riprodurre il sistema solare come il nostro sistema solare quindi i pianeti giganti nelle parti più esterne i pianeti rocciosi nelle parti più interne eccetera è proprio che quest'unico sistema potrebbe essere non è affatto detto che sia un sistema tipico, un sistema comune magari è un sistema molto particolare e in generale i sistemi planetari sono diversi e con tutto questo non lo potevamo sapere perché avevamo un'unica realizzazione del processo e dal 95 poi appunto abbiamo cominciato a studiare altri sistemi planetari ad oggi controllato qualche settimana fa adesso il numero preciso non ho scritto ho messo oltre 3.000 perché in effetti ad oggi conosciamo oltre 3.000 pianeti al di fuori del sistema solare e anche qua il numero secondo me è notevole cioè dal 95 ad oggi sono passati una ventina d'anni e in una ventina d'anni abbiamo scoperto un numero di pianeti effettivamente gigantesco e quindi adesso finalmente possiamo cominciare a fare un po' statistica e studiare le proprietà non più del singolo oggetto adesso se sia 51 Pegasi P o 55 Carpi ha poca importanza ciò che ci interessa e ciò che possiamo fare adesso è studiare l'intera popolazione dei sistemi transolari e cercare di capire quindi a livello statistico come sono questi sistemi e come si formano ed ecco appunto se parliamo di statistica cominciamo a mostrarvi il grafico questo qua è uno dei grafici più interessanti che nessuno con le caratteristiche dei pianeti extrasolari osservati ciascun punto qua è un pianeta extrasolare gli assi sono semiasse maggiore del pianeta e la massa del pianeta in massa di Giove e semiasse maggiore in unità astronomica evidentemente la Terra sarebbe qua se ci fosse in questo grafico non c'è perché sono solo il pianeta extrasolare e Giove invece sarebbe qua e quindi cominciamo a vedere già questa è una cosa molto interessante questo grafico racchiude una serie di enormi informazioni la prima è che ci fa vedere che il nostro sistema solare non è affatto tipico il che non significa che non sia raro ci arrivo fra un attimo non possiamo ancora dire se il nostro sistema sia raro ma di sicuro possiamo dire che non è tipico cioè ci sono sistemi molto diversi dal nostro e se vedete Giove che è chiaramente dominante il nostro sistema solare sta ai bordi di questa distribuzione che vediamo qua in particolare alcune cose che notiamo è che ci sono una serie di pianeti questi qua che vengono chiamati hot Jupiters sono pianeti che hanno massa dell'ordine della massa di Giove o anche fino a una decina di masse di Giove ma che si trovano a distanze estremamente piccole rispetto alla loro stella questo qua è un decimo di unità astronomica quindi sono più vicine alla loro stella di quanto Mercurio sia il Sole queste due linee verticali che ho disegnato qua sono i limiti del nostro sistema solare l'orbita di Mercurio e l'orbita di Attuno quindi il nostro sistema solare è compreso qua in mezzo con le distanze rispetto al Sole e invece vediamo appunto che i sistemi extrasolari possono sicuramente uscire da questa zona sono pianeti molto più vicini alla loro stella pianeti anche molto più distanti pianeti molto più massicci di Giove e soprattutto vediamo che anche nel luogo diciamo alla stessa distanza dove si trova la Terra ci sono pianeti di svariare massi di Giove pianeti che sono anche presenti qua questa popolazione qua è particolarmente interessante perché i fondi di Jupiter sono veramente vicini alla loro stella e in effetti compono una serie a domanda perché se uno ragiona e si chiede quanta massa fosse disponibile nel disco protostellare di cui parlerò fra un poco che è l'ambiente in cui si formano i pianeti la massa disponibile in questa di Giove qua è estremamente ridotta è molto piccola molto più piccola della massa di Giove quindi il fatto che ci siano dei pianeti qua che non si possono essere formati qua loro sicuramente si sono formati molto più in là perché non c'era abbastanza mazza qua quando si sono formati quindi la presenza di questi pianeti è un chiaro indizio del fatto che i pianeti migrano non vanno a finire là dove sono nati nascono da qualche parte e poi migrano fanno grandissime migrazioni per andarsi a trovare un'altra parte questo è un forte indizio che questi processi sono importanti un'altra classe interessante di pianeti è questa qua questi pianeti qua forse lo riuscite a leggere qua sopra c'è scritto direct image questi sono gli unici pianeti che noi osserviamo direttamente fra un po' parlerò dei vari metodi che si usano per soffrire i pianeti extrasolari appunto questi qua sono gli unici che osserviamo direttamente e chiaramente li osserviamo qua perché sono molto distanti dalla loro stella e non hanno problemi di contrasto c'è problemi di contrasto con la luce stellare molto ridotta quindi li possiamo osservare soltanto se sono in questa zona qua e anche qua questo è una novità rispetto a questo sistema solare sono molto oltre alle unità di Nettune e sono molto massimi questo è un esempio bellissimo appunto di pianeti appunto osservati direttamente voglio dimostrare questo filmino prima di dimostrare vi dico di cosa c'è allora questo è un sistema di pianeti osservati direttamente se vedrete al centro ci sarà una stella che diciamo mascherata in maniera opportuna e vedrete una serie di puntini che si muovono i puntini che si muovono sono i pianeti perché appunto è una collezione di immagini di presentazioni del tempo e quindi noi possiamo osservare anche il muoto di questi pianeti e li vedete sono quattro pianeti uno due tre e quattro questi quattro pianeti sono attorno alla stella R87-99 e questa barretta qua sono 20 unità astronomiche quindi si vede che appunto il più distante è circa 60 o forse più unità astronomiche rispetto alla stella e qua insomma questi che hanno fatto questa scoperta sono stati molto fortunati che hanno vettato quattro in un solo corpo e in realtà quando erano scoperti erano scoperti tre i primi tre hanno scoperto l'ultimo che sono scoperto dopo ma la cosa interessante è che appunto adesso l'abbiamo monitorato nel corso degli anni il mondo di questi pianeti e la cosa bene è che abbiamo potuto verificare che obbedissono anche loro alla legge Kepler non ci conforta esatto ci conforta il Gepler vale anche per loro quindi è abbastanza interessante e appunto ci sono vari tipi di pianeti extrasolari che abbiamo scoperto io ho giubile che vi ho già detto e poi osserviamo appunto questi pianeti che vengono cantiti Tatooine perché non solo osserviamo pianeti attorno a stelle di tipo solare come il sole ma cominciamo a osservare pianeti attorno di tipo diverso in particolare osserviamo pianeti attorno a sistemi binari quindi sappiamo che c'è una binaria di stelle e anche in un sistema binario ci sono pianeti e conosciamo pianeti che in un sistema binario ambitano attorno alla prima pianeti che ambitano attorno alla seconda e pianeti che ambitano attorno alla binaria ok ci sono tre possibilità che può arbitrare attorno a ciascuno delle due stelle oppure può orbitare attorno all'intero sistema binario questi pianeti qua si chiamano pianeti appunto Tatooine dal nome del pianeta di guerre stellari in cui appunto c'è un sistema binario cioè il pianeta di cui è nato Luke Skywalker orbita una stella binaria e adesso noi sappiamo che questi pianeti si sono davvero conosciamo sicuramente dei sistemi di pianeti cioè abbiamo una singola stella costita vari pianeti qua ne ho messo un esempio ma adesso ce ne sono tantissimi 55 cancri a 5 pianeti nel suo sistema un'altra caratteristica molto interessante che anche qua è molto diversa dal sistema solare noi sappiamo che gran parte dei pianeti hanno orbite estremamente eccentriche il che è molto diverso rispetto al sistema solare nel sistema solare i pianeti sono svegliissimi e lì si molto poco eccentriche sono quasi circunferenze mentre invece le eccentricità possono essere estremamente altre la distribuzione di eccentricità è praticamente uniforme tra 0 e 1 qualsiasi eccentricità l'abbiamo osservata nel sistema solare e anche qua si fa capire che il nostro sistema solare non è tipico perché ci sono sistemi molto diversi dal sistema solare però il fatto di non essere tipico non significa essere raro può essere semplicemente che la distribuzione è così pari noi siamo semplicemente una delle possibilità né più né meno probabili di tante altre questa nota qua ancora non la possiamo dire e in realtà questo è legato un po' alla completezza della nostra conoscenza noi conosciamo i limiti sperimentali ci permettono di conoscere alcune proprietà dei pianeti ma l'interrissecuzione dei pianeti non è nota completamente e per descrivere un po' meglio questi limiti osservativi che ci sono dobbiamo cercare un po' quando sono i metodi di scoperta dei pianeti strasolari cioè sono diversi più un po' leccati il primo che voglio descrivere è questo che si chiama il metodo della rete al velocity faccio partire qua per questo video che mostra come funziona il metodo della rete al velocity lo metto per primo perché è il metodo utilizzato da meiore che lo ho per scoprire 51 pegasi quindi questo è storicamente il metodo utilizzato per la prima scoperta dei pianeti strasolari in cosa consiste? diciamo questo video lo spiega c'è un pianeta che orbita attorno alla stella il pianeta noi non lo vediamo è un metodo indiretto questo noi non vediamo il pianeta il pianeta orbita attorno alla stella però in conseguenza del mondo del pianeta anche la stella si muove fa un piccolo modo anche la stella quindi la stella si muove amanti e indietro la sua velocità quindi diciamo oscilla diciamo almeno la componente nella nostra linea di vista della velocità oscilla e quindi le ride dotter di emissione della stella si spostano quindi lo spettro stellare si sposta verso il rosso e verso il blu in maniera periodica misurando l'effetto qua possiamo misurare la velocità della stella e quindi dedurre la presenza di un pianeta questo qua è il metodo questo qua è esattamente l'immagine dell'articolo di Maiore Però che mostra la velocità in funzione del tempo questi sono i dati osservati e vediamo questa perfetta sinusoid che ci dice effettivamente che si tratta nel sistema in cui ci ho pianeta e qua voglio mostrare di nuovo questa figura perché appunto in realtà questo metodo ha una serie di quelli che noi chiamiamo bias osservativi cioè queste osservazioni non ci permettono di osservare in maniera completa l'intero possibile spazio dei parametri perché? perché per poter avere un segnale misurabile nella velocità della stella è chiaro che abbiamo bisogno di due cose o che il pianeta sia molto massiccio quindi induce un forte spostamento della stella oppure che sia molto vicino alla stella i schedi nuovi usano un forte spostamento quindi questo meccanismo questo metodo di scoperta preferisce scoprire i pianeti massicci che sono vicini alla loro stella in particolare questo grafico qua essenzialmente la regione di scoperta dei pianeti strasolari è un triangolo fatto così quindi il fatto che qua ci sia un certo di pianeti e qua non ce ne siano non significa affatto che qua non esistano i pianeti ok qua non ci sono perché il nostro metodo di rivelazione non può osservare i pianeti che sono qua in fondo ok lo spazio di scoperta di pianeti con questo metodo è un triangolo fatto è un trapezio in realtà un triangolo così e poi va dritto così questa è la linea ok un'altra cosa interessante è che se uno va a studiare da tutti i stessori questo è curioso un fatto maggiore che loro hanno cominciato a fare le loro osservazioni nessuno ci credeva che avrebbero scoperto un pianeta e il motivo era che se uno si calcola quant'è la velocità indotta sul sole da Giove prima di sapere che c'è le pianeti stradolari se noi vogliamo immaginare di scoprire che pensiamo a Giove ok allora vediamo Giove che velocità induce sul sole e vediamo se riusciamo a scoprirlo viene fuori che Giove riesce a indurre nelle condizioni migliori di osservazione cioè se l'orbita è proprio perpendicolare l'orbita è perpendicolare alla linea di vista e con di farcia che sarebbe un caso più difficile però nel caso migliore Giove sul sole induce una velocità di 15 metri al secondo se uno va a vedere quanto sono grandi le barre di errore quindi disponibili da maiore che l'osso proprio nell'ordine di diverse decine di metri al secondo e quindi la precisione spettroscopica che loro avevano era troppo scarsa per osservare Giove e quindi tutti diciamo non troverete mai un pianeta sono stati molto fortunati perché 51 pene seppini è un ho Jupiter è un pianeta che sta qua vicino pianeti di cui non sapevamo l'esistenza fino a me lo rete e quindi loro hanno potuto scoprire siccome stava così vicino la velocità la velocità indotta sulla stella è molto maggiore quindi così l'hanno potuto scoprire il secondo metodo è di gran lungo quello che è di maggiore successo nel senso che la maggior parte dei pianeti scoperti è stata scoperta così tramite transiti e il motivo è che c'è un satellite in particolare che si chiama Kepler che attualmente è una fuscina di pianeti estradonari il metodo del transito è abbastanza ovvio se un pianeta transita davanti alla stella ovviamente non è come il transito di Venere la stella non viene risolta quindi non riusciamo a vederlo però se il pianeta ci passa davanti la luminosità della stella luminisce leggermente perché c'è una mattia scura sopra quindi noi risuliamo la variazione di luminosità indotta dal transito tipicamente l'ampienza di questa variazione di luminosità è che un per cento quindi non è particolarmente alta però lo possiamo misurare e Keper ha scoperto così un sacco di pianeti ovviamente perché questo succede ci vuole un buon allineamento dell'orbita quindi di nuovo non tutto lo spazio di parametri è accessibile ecco appunto qua faccio vedere per esempio alcune curve di luce di alcuni transiti osservati queste sono una serie di pianeti Keper 4P 5P eccetera eccetera e questi sono proprio i dati per la Keper si vede che fuori dal transito questa era l'università della stella quando il Keper ci passa dentro l'università diminuisce ok e quindi osserviamo diciamo queste clisse e riusciamo a vedere a quindi inferire la presenza di pianeta quanti sono anche scritti poi sono i periodi corrispondenti come vedete i periodi sono in qualche giorno ok periodi di qualche giorno vuol dire che stanno molto molto vicini alla loro stella fanno un anno in qualche giorno il metodo dei transiti è molto buono per scoprire chi è più vicino il transito ci dà anche una serie di altre informazioni molto interessanti perché tramite il transito noi possiamo fare spettroscopia del transito cioè vedere come varia lo spettro della stella mentre ci passa davanti il pianeta e se facciamo questa cosa qua facendo la differenza possiamo avere informazioni sullo spettro del pianeta e se conosciamo lo spettro del pianeta possiamo andare a vedere quali sono gli elementi le molecole della loro atmosfera quindi questo è interessante perché possiamo avere delle informazioni sull'atmosfera planetaria se fanno di ossidio di ossidio di carbonio o di che cosa appunto questa è una cosa che stavamo dicendo Keller è il satellite attualmente di maggiore successo per la scoperta di questi pianeti fra poco partirà Plado in una missione dell'ESA che dovrebbe riscontrare anche l'Europa in questo campo qua adesso potremmo metteranno anche i problemi ci sono altri metodi appunto che che menziono ma che sono meno di successo l'astrometria essenzialmente consiste nel misurare non tanto la velocità della stella ma la posizione della stella cioè per mentre la stella si sposta nel cielo se c'è un pianeta e noi invece di misurare la velocità con effetto l'opper sulle righe misuriamo il spostamento ok ci vuole altissima precisione nella posizione della stella per poter misurare misurati di questo tipo fino ad ora non ce l'avevamo chissà che Gaia questa missione che serve per misurare appunto far strumenti di grande precisione magari ci può aiutare il microlensing l'ho scritto ma non voglio discutere più di tanto anche perché pochissimi i clienti sono scoperti con questo metodo e infine appunto l'ultimo metodo è il dare t-maging quello proprio di vedere come vi ho fatto vedere nelle immagini precedenti tutto questo e vi ho detto fino ad ora riguarda pianeti adubiti pianeti già formati attorno a stelle di sequenza principale essenzialmente quindi sono stelle che hanno qualche miliardo di anni e pianeti già diciamo come la nostra terra come età la domanda che ci possiamo porre adesso è cercare di capire come si formano le tene possiamo osservare i pianeti neonati appena si sono formati e la risposta è sì adesso noi riusciamo ad osservare i pianeti neonati non solo li possiamo osservare quando sono ancora diciamo nel nel liquido amniotico in un certo senso quando sono ancora circondati dall'ambiente in cui avviene la loro formazione l'ambiente in cui avviene la loro formazione sono appunto questi dischi protoconetari di cui voglio parlare nel resto del mio intervento e che adesso possiamo osservare e il motivo per cui possiamo osservare adesso è dovuto sicuramente a una serie di conquiste tecnologiche fondamentalmente la prima è del 2015 quindi appunto vi parlo di tre anni fa nel 2015 viene completato il radiotelescopio ALMA ALMA sta per Atacama Large Millimeter Ray ed è un insieme di telescopi la Ray è appunto una schiera di telescopi che operano nel millimetrico quindi la lunghezza d'onda che loro osservano nel millimetrico si tratta di osservazioni radio alle microonde quindi non visibile e appunto qua c'è l'immagine delle antenne sono 66 antenne si trovano nel deserto di Atacama nel Cile e si possono spostare si possono muovere in questo alto piano che si trova là in Cile e a seconda di come si muovono possono realizzare diverse configurazioni interferometriche si tratta di interferometro adesso non so quanto vuoi si tratta di interferometriche però essenzialmente le varie antenne lavorano insieme come se fossero un'unica antenna gigante e quindi spostando possiamo realizzare diverse configurazioni interferometriche e questo qua è importante perché i dischi protoplanetari in ambiente in cui avviene la formazione stellare sono molto freddi e quindi la loro emissione avviene all'unica molto grande appunto nell'infrarosso all'arrabio e infatti l'altra grande novità che ci ha aiutato viene dal DSD e è l'ottoramento Steer al DSD che permette di fare imaging nell'infrarosso e quindi adesso stiamo guardando se andiamo a vedere i dischi protoplanetari che è da sicuramente meglio concettuare dobbiamo muoversi dall'ottico tutte le osservazioni di prima e non nell'ottico e ci dobbiamo sforzare all'unica seconda più o più grandi e fra rosso fino al millimetro c'è da dire una cosa che appunto nel 2015 che in realtà Alma funzionava già da prima nel 2015 le prime sono signi di Alma ho messo in 2015 però devo dire che Alma funzionava sin da prima ho segnato il 2015 perché nel 2015 è stato completato cioè tutti i 66 le antenne erano messe su e quindi abbiamo potuto cominciare ad usarlo diciamo al massimo delle sue potenzialità le sue versioni precedenti erano già bellissime ma non stupende come quelle che adesso possiamo avere e che fra un po' vi faccio vedere e quindi appunto parliamo un po' di questi dischi protostellari cosa sono come sono fatti come li osserviamo allora sono dei dischi appunto che circondano una stella giovane sono composti di gas e di polveri in un rapporto di 101 circa cioè soprattutto gas e pochissima polvere e ovviamente essendo quasi tutto gas è chiaro che il gas domina la dinamica tutto il moto l'idrodinamica di questi sistemi è dominati alla componente gasosa c'è un problema che il gas è quasi tutto idrogeno molecolare e l'idrogeno molecolare non è facile ad osservare perché non ha delle transizioni insomma è una molecola che non ha un dipolo elettrico e quindi fa delle transizioni molto deboli è difficilissimo ad osservare le sue righe di emissione e quindi essenzialmente il gas è molto problematico ad osservare e quindi essenzialmente tutto quello che noi facciamo noi non osserviamo il gas non osserviamo la polvere la polvere invece emette molto emette previsione termica ed emette appunto la previsione termica la sua temperatura che va dall'infrosso fino al radio e quindi qua c'è un piccolo problema perché noi vogliamo osservare questi dischi che sono fatti al 99% di gas osservando l'1% di questo piccolo contaminante che è la polvere che si trova in mente quindi chiaramente le informazioni sono un po' dipendono un po' da questo fatto che è conservare non lo so lo sporco su un vetro e cercare di avere informazioni sul vetro l'altra cosa per cui la polvere è importante è che la polvere domina la formazione planetaria noi viviamo su un pianeta di polvere molto molto grossi dobbiamo un grande polvere tirantesco però essenzialmente la componente polverosa è quella che poi sono essenzialmente silicati che porterà dopo la formazione di pianeta quindi la formazione planetaria è dominata dalla componente polverosa il gas ruota attorno alla stella approssimativamente seguendo anche lui la legge di Keplero e a poco a poco lentamente cresce sulla stella quindi il motor è una lenta spirale gira approssimativamente seguendo la legge di Keplero ma a poco a poco cade giù verso la stella la dinamica della polvere è molto complicata invece perché è complicata a causa dell'attrito con il gas è come se fosse un aereo che vola nella fosfera assente un tetto diciamo dovuto alla fosfera e quindi la sua dinamica è un po' complicata e la cosa fondamentale è che dipende dalle dimensioni integre nella polvere quindi se quando sappiamo che i polvere grandi o piccoli la dinamica è diversa e ci sono tantissimi processi fisici importanti che appena di questi dischi ne ho messi alcuni ma ci sono molti di più questi dischi sono turbolenti ci sono dei vortici e di stabilità idrodinamiche la chimica può essere molto complessa e coinvolge anche la polvere e qua c'è un piccolo schemino che mostra tutte le cose che possono succedere sul disco protostellare la stella qua al centro qua c'è questo disco che è fatto di gas e di polvere qua sulla sinistra ci sono i vari processi che possono avvenire mescolamento a caso della tubolenza la polvere tende a sedimentare sul piano sul piano equatoriale quindi tende a cadere c'è un nostro processo che si chiama radial drift in cui la polvere migra molto rapidamente verso le zone centrali insomma ci sono tantissimi processi che coinvolgono la polvere qua sulla destra invece vi mostro le diagnostiche che noi abbiamo il disco chiaramente si estende da zone molto vicine alla stella a zone molto lontane che hanno temperature diverse e proprietà di emissioni diverse in particolare quello che si può vedere è che le zone superficiali queste che qua sono disegnate in giallo le zone superficiali emettono molto nel vicino infrarosso scatteranno diciamo diffondendo la luce stellare quindi riflettono la luce stellare e noi la sfermiamo così quindi nell'infrarosso è appunto sfire molto importante per questo abbiamo queste immagini diciamo di luce riflessa solo dalla superficie del disco quindi abbiamo informazioni su quello che avviene in sopraficie ma non su quello che avviene nel centro nel medio infrarosso abbiamo informazioni sulle zone un po' più interne ma vicine alla stella e poi invece il grosso del disco il grosso della polvere del disco quella che sta qua nel piano equatoriale emette appunto soprattutto all'unica seconda millimetrica quindi con ALMA osserviamo questa regione qua nel disco mentre invece con Sphere lo strumento dell'infrarosso osserviamo la superficie c'è un'altra cosa importante da dire che vi preannuncio che mentre con ALMA osserviamo grani grossi i grani di polvere che mettono nel millimetrico hanno dimensioni circa del millimetrico quindi sono polvere delle dimensioni del millimetro invece Sphere osserva polvere micrometrica quindi grani di polvere molto più piccole questa cosa qua ricordatevi quindi quando vedremo le osservazioni ricordatevi che non sempre mostrano la stessa zona del disco ed ecco adesso vi faccio vedere un po' di immagini queste sono immagini ALMA ottenute recentemente di dischi protossellari anche la prima immagine che vi avevo fatto vedere nella presentazione nella prima slide della presentazione era immagine di ALMA poi ci ritorniamo e queste immagini quando sono cominciate ad apparire sono state oggettivamente uno shock per tutta la nostra comunità perché noi per tantissimi anni che esistevano questi dischi protostellari lo sappiamo negli anni 70 ma per tantissimi anni abbiamo sempre supposto che questi dischi fossero più o meno omogenei con una densità che magari può cambiare a seconda le lezioni del disco ma senza nessuna struttura interna particolarmente nelle lezioni rilevante li immaginavamo come dei bloc e quando li osservavamo apparivano come dei bloc quindi per noi andavano benissimo queste descrizioni e invece quando è arrivato ALMA ha cambiato tutto perché ci ha fatto vedere che questi dischi hanno delle sottostrutture delle sottostrutture molto complicate in particolare queste che vi mostro qua sono alcune diciamo la più evidente quella che si vede nel maggior numero dei casi sono anelli ok questi dischi sono in realtà fatti da una serie di anelli ok qua ce ne ciascuno di questi c'è un nome AS209 HD1691-42 questa partita più hydra questa qua è molto vicina a noi quindi è molto ben studiata e tutti questi dischi mostrano questa struttura di anelli e questa cosa qua è molto interessante ora ci troviamo un attimo prima voglio farvi vedere che oltre ad anelli possiamo anche vedere queste bellissime spirali ok quindi sembra quasi una galassia ok in realtà non ho niente capire come una galassia qua c'è una stella appena nata e questo è il disco che sta attorno alla stella ok se gli osservassi voler visibile cosa si vedrebbe solo la stella solo la stella sì 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 assolutamente solo la stella se andiamo nel vicino infrarosso un pochino di emissione diffusa si può vedere ok però non so quando a un astronomo o ancora di più di un astrofino facciamo vedere degli anelli cosa che viene in mente ovviamente viene in mente Saturno e quindi questa cosa qua adesso ci torno un attimo Saturno scusate volevo dirvi delle altre cose prima però è chiaro che viene in mente Saturno quindi ha piatti in mente Saturno come cosa di riferimento la cosa che volevo farvi vedere prima di parlare Saturno e quest'altra questa cosa qua è un'altra cosa bellissima questo qua è un disco che si chiama HD135344P ok è una stella con un disco attorno e quello che vi mostro qua sono qua questa qua è l'immagine di Alma questa è l'immagine del millimetrico e questa qua è l'immagine della stessa sorgente lo stesso oggetto ma con spia quindi nell'infrarosso ok e vedete che questo è interessantissimo che questo stesso disco appare molto diverso se uno lo guarda nell'intrarosso o nel millimetrico mentre nell'intrarosso c'è una spirale fantastica proprio perfetta nel millimetrico invece volendo uno può pensare che ci siano aspetti di spirale anche qua non lo so questo braccio qua può ricordare questo però non è nella stessa posizione ok e poi soprattutto c'è sempre più una struttura d'anelli che non di non spirale e quindi è interessante che la superficie del disco ci muestra una spirale le parti più interne ci muestra degli anelli quindi potete un attimo capire come mai lo stesso disco appare diversamente a seconda della diagnosi che usiamo questo è un altro bellissimo esempio della stessa cosa sempre immagine sphere immagine alma questo è un altro oggetto che si chiama M2C 758 anche qua una spirale stupetta nell'infrarosso e di nuovo forse questo pomo può pensare che è la stessa spirale ma in realtà di nuovo non coincidono i bracci questo blob che c'è qua si trova qua e questo che c'è qua si trova qua quindi sta vicino al blob dell'infrarosso ma non nella stessa posizione qui un'altra cosa che abbiamo cercato di capire è qual è il legame tra le immagini e le diverse lunghezze e non e anche qua questo è un altro esempio della stessa cosa dove ha 44 infrarosso radio anche qua si vede che ci sono due lobi un lobo più luminoso qua e un lobo più luminoso qua con una zona meno luminosa da questa parte qua anche l'infrarosso c'è ma di nuovo sono spostati rispetto rispetto al minimale che non c'è da capire come vai osserviamo anche ferri il cavallo molto belli questo qua questo disco a me piace molto Ht142527 è una name però è un anello incompleto c'è una bellissima struttura a terra di cavallo e in realtà se non servono tanti ma qua c'è un altro questo qua è sempre 2,44 che porta questa simmetria quindi a volte vediamo questi anelli ma non sono completi sono delle zone più luminose e delle zone meno luminose ok? si si è messo proprio davanti ah scusi no vabbè non così lontano non stava bene non ho perduto è un po' e va bene va bene anche là sotto sotto il tavolo va bene questo ok scusate e niente questa qua è una cosa bellissima perché non solo i singoli oggetti li possiamo osservare con grande precisione ma la cosa bellissima che può fare arma è è molto sensibile come strumento possiamo avere delle survey complele di un mare di distrutture in varie zone di formazione stellare queste sono tre zone diverse di formazione stellare questo qua è la zona di chameleon no questa è lupus questa è chameleon e questa è a persco e sono tre zone diverse di formazione stellare e in giocuna di queste noi osserviamo una serie di dischi e qua mettiamo un altro bel ferro di cavallo qua c'è un altro bel anello e quindi possiamo studiare per bene tutti questi vari dischi in un sacco di stelle queste qua sono osservazioni di qualche anno fa questa qua mi piace particolarmente una altra bella galleria questo è stato il toro questa galleria mi piace particolarmente perché faccio parte della collaborazione che ho preso questi dati quindi questi sono proprio i dati nostri che attualmente stiamo studiando anzi devo dire che prima di venire qua ho grande fretta di scrivere un articolo su alcune di queste cose qua che stanno rubando il risultato e ve ne esplicarmi a pubblicarlo questa nostra survey questo nostro diciamo campione è molto bello abbiamo un anello stupendo qua degli altri anelli qua 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 facciamo un ferro di cavallo insomma possiamo cominciare a studiare per bene queste cose qua alcuni dischi sono molto piccoli possiamo chiedere come mai che si fa sono molto piccoli invece questi sono molto estesi anche qua che ho delle idee perché guarda a casa questi piccoli hanno quasi sempre una compagna accanto quindi magari è proprio la presenza della compagna che è così che il discorso venga limitato quindi queste sono tante cose che noi adesso possiamo studiare e a questo punto faccio un po' di pubblicità a un progetto che è stato recentemente finanziato da Milano Europea ci hanno fatto un sacco di soldi e appunto tra l'altro noi a Milano in particolare sono responsabile mondiale di questo network è un network che coinvolge dieci istituti cinque europei e cinque fuori dall'Europa in Europa siamo Milano lei sono a Monaco Cambridge Lione e Leicester in Inghilterra e i nodi stranieri sono le Hawaii due in Cile uno in Arizona e uno a Melbourne in Australia quindi c'è questa rete tutti noi diciamo lo scopo complessivo del nostro gruppo è studiare sia dal punto di vista osservativo che dalla teoria come funzionano questi dischi TAS TAS è il nostro nome ok questo è il nostro progetto e appunto l'idea è di capire la dinamica della polvere di questi dischi protostellari TAS appunto e studiare la formazione degli anelli ecco torniamo alla questione degli anelli qual è l'origine degli anelli ecco noi questa cosa qua la studiamo tramite delle complesse simulazioni nel computer e qua vi faccio vedere Saturno perché appunto quando vediamo degli anelli ci viene in mente Saturno ora le divisioni negli anelli di Saturno sono dovute alla presenza di lune delle lune di Saturno che stanno nelle divisioni quindi le divisioni causate appunto dalla presenza della luna e allora noi possiamo immaginare che la stessa cosa succeda in questi sistemi qua cioè se vediamo una divisione quindi un anello in un disco protostellare magari invece di essere un satellite del pianeta in quel caso è un pianeta attraverso stella quindi l'idea che c'è dietro è che ogni divisione degli anelli che vediamo è la traccia della presenza di un pianeta che non vediamo ma di cui vediamo l'effetto quindi questi anelli possono servire come metodo indiretto di scoprire i pianeti quando si formano esattamente come la velocità radiale è un metodo indiretto di scoprire un pianeta quando è già formato la presenza di un anello può essere un'indicazione della presenza di un pianeta nel momento in cui si forma gli ancori immersi nel disco e per capire bene come funziona questa cosa facciamo queste complesse simulazioni a computer simuliamo la fluidodinamica di questi dischi questo è esattamente diciamo quello che faccio io poi vi faccio vedere una simulazione per esempio questa è una simulazione di prova che ho fatto io tempo fa c'è una stella qua al centro qua c'è un pianeta e la parte blu è la densità del disco e si vede che appunto il pianeta gira per una stella in effetti crea questa depressione questa zona di bassa densità in corrispondenza della sua orbita però come vedete bene non soltanto si forma una divisione all'interno del pianeta ma si forma anche una struttura spirale molto evidente ok e allora la domanda soltanto è soltaria noi cominciamo vediamo un sistema di anelli diciamo ah ecco allora ci sono gli anelli e però poi ci ripensiamo un attimo come mai non si servono le spirale tra parte il fatto che gli attacchi le spirale vediamo anche questo è più interessante però i sistemi in cui si vedono gli anelli cioè nell'immagine in cui essenzialmente ci sono gli anelli perché vediamo gli anelli e non le spirali e noi appunto ci siamo posti questa domanda questa è interessante perché nel 2015 è apparsa la prima immagine di un sistema di anelli ok il sistema si chiamava HL Tower ancora che era la prima slide che mi ho mostrato che mi mostrava proprio HL Tower il sistema con le mail quando è apparsa questa appunto le reazioni della comunità sono stati ah i clienti e poi subito dopo no un attimo perché non ci sono ispirati e quindi eravamo tutti un po' non era chiaro la situazione a quel punto appunto nel 2015 io c'avevo uno studente di dottorato che aveva appena cominciato a lavorare con me e gli ho detto di lavorare a questo tema e abbiamo trovato in effetti la soluzione poi siamo stati noi a scoprire quella è la soluzione e la chiave sta nel simulare simultaneamente sia il gas che la polvere non è detto che il gas e la polvere abbiano lo stesso comportamento la simulazione che vi ho fatto vedere prima mostrava soltanto il gas ora vi faccio vedere come simulare lì qui c'è sia il gas che la polvere e si comporti in maniere diverse ci potevamo arrivare perché gli anelli di Saturno sono fatti di polvere non c'è il gas ok gli anelli di Saturno sono molto sottili non hanno pressione e quindi per questo fanno questa struttura di anelli il gas ha detto la pressione può generare delle onde queste onde sono le spirali che si vedono le spirali che si vedono sono delle onde essenzialmente le onde si presentano in un sistema che ha la pressione se il sistema non ha la pressione la polvere allora le onde non si formano questa diciamo è la spiegazione semplice lo abbiamo testato numericamente abbiamo fatto queste simulazioni e in questo caso appunto io ho messo una stella qua al centro con la massa di a l e tali ci abbiamo messo tre pianeti in questo sistema un pianeta di un fluido della massa di Giove uno di 0,27 e uno di metà della massa di Giove e abbiamo messo a 13 32 e 70 unità astronomiche della stella e poi abbiamo fatto partire la simulazione e quello che si vede appunto è che i pianeti generano una spirale nel gas come vi ho fatto vedere prima ma invece nella componente della polvere generano una serie di anelli la differenza tra questi due comportamenti è proprio legata al fatto che faccia il gas la loro dinamiche una volta fatta questa simulazione abbiamo fatto un passo aggiuntivo questo che vi mostro qua è la densità della polvere il passo aggiuntivo è stato calcolare l'emissione cioè l'emissività alle onde radio quindi abbiamo calcolato quanta luce radio viene messa dalla polvere in questo caso poi abbiamo fatto finta che fosse il cielo alla distanza di a che le tali l'abbiamo passato il segnale tramite la risposta del telescopio ALMA e abbiamo prodotto una finta osservazione ALMA della nostra simulazione e questo è il risultato questa è la nostra simulazione come sarebbe vista da ALMA questa è anche le tali e quindi vediamo appunto che c'è un accordo abbastanza vicino non è perfetto l'accordo però tutto il formato non siamo abbastanza soddisfatti e questo ci dice che in effetti in anche le tali le varie divisioni possono essere causate nei tre pianeti che vi ho detto un attimo fa quindi diciamo tutto quello che diciamo gran parte di quello che faccio io è fare cose del genere prendere le osservazioni di ALMA con la loro struttura e dedurre la presenza di pianeti tramite queste simulazioni complicate al computer di isodinamica della polvere del gas ma possiamo anche spizzarrirci al computer possiamo fare i nostri esperimenti per vedere cosa succede in situazioni più complicate per esempio abbiamo studiato questi dischi circombinari vi ho detto prima che molto spesso si osservano pianeti attorno a questi sei binari quindi questo succede in un disco circombinario qua c'è una binaria di stelle cioè qua dentro ci sono due stelle ok ora lasciate perdere i quattro i quattro pennelli ma c'è da qui su uno sotto intanto sono tutti uguali o quasi uguali se facciamo andare alla simulazione appunto il fatto che ci sia una binaria di stelle ha un effetto importante sulle dinamiche del gas e quello che si vede adesso non so se vedete molto a poco a poco viene fuori un'instabilità che fa sì che il bordo interno di questo disco comincia a diventare non più assi simmetri cioè diventa più denso da una parte e meno denso dall'altra non so se cominciate a vederlo ok fa molto di fare di cavallo esattamente intanto questo è il nostro appettativo di spiegare il fare di cavallo appunto quindi ora si vede abbattanza bene vedete da una parte più denso dall'altra parte meno denso ok a questo punto facciamo lo stesso esperimento che abbiamo fatto prima qua vi faccio vedere per esempio qua c'è la distribuzione della polvere queste varie simulazioni differiscono per il rapporto di massa tra le due stelle della binaria ok qua la compagna è piccola e poi progressivamente più grande si vede quando la compagna è piccola questo aspetto non c'è ma quando la compagna in questo caso è un quinto della primaria c'è questa sovradensità molto molto spiscata da una parte e non dall'altra e di nuovo facciamo lo stesso esperimento prendiamo questa simulazione facciamo finire che si vede nel cielo le facciamo passare attraverso la risposta di alma e otteniamo immagini simulate di questi oggetti qua e queste sono le immagini simulate ok piccolo rapporto di massa quindi anello man mano che cresce il rapporto di massa si vede una zona un po' più densa qua un po' più densa qua e poi vengono fuori i ferri di cavallo e a questo punto ne possiamo mettere accanto le nostre immagini vere dei fischi osservati e si vede che appunto questi due lobi qua corriscono a questi due un ferro di cavallo la prima politica può cambiare quindi questa è l'altra cosa che noi cerchiamo di fare quindi cerchiamo di spiegare le morfologie osservate nei dischi tramite interazioni dinamiche tra o stelle e canete oppure due stelle in questo caso particolare ma se noi giochiamo con le binarie possiamo anche divertirci a fare cose un po' diverse nella simulazione che vi ho fatto vedere prima il disco era nello stesso piano orbitale della binaria però niente ci dice che debba essere così se voi prendete una binaria che orbite in questo piano e ci mettete un disco di traverso cosa succede? abbiamo fatto la simulazione vediamo cosa succede si vede la binaria qua dentro e quello che succede è che si strappa via la parte più interna del disco e il disco si spezza in due anelli separati che precedono un nuovo rispetto all'altro e c'è questo fenomeno molto particolare in particolare quello che succede è che se la geometria è fatta così il disco interno che è disalineabile rispetto a quello esterno ha l'effetto di gettare un'ombra sul disco esterno cioè la sorgente luminosa sono le due stelle qua al centro però qua e là c'è l'ombra del disco interno ok e quindi dovremmo osservare delle cose molto strane ecco questa è un'immagine simulata che dovremmo avere in una situazione di questo tipo si vede proprio che ci sono queste due zone d'ombra e anche questo adesso è ovvio che anche queste cose poi le osserviamo per come ve lo sto presentando anche queste cose lo osserviamo questo che si è conservato si all'ombra qua e qua ma non solo si vede una simmetria questa zona è più luminosa questa zona è in ombra e anche questo è previsto perché se voi mi mettete qua questa zona sarà in ombra rispetto alla stella e questa zona sarà luminosa ok vedete se c'è una immaginate proprio questa che è una cosa oscura che blocca la luce e la luce viene da qua questo riceve la luce del penne illuminato da qua invece c'è il nome della sua interna e questo è quello che pensiamo accadre in un sistema di bossodio bene non so quanto per quanto tempo ho parlato andiamo fino a domani perfetto è quello che immaginiamo di fare arrivo qua alle mie conclusioni secondo me questo intervento l'avessi fatto cinque anni fa avrei detto cose completamente diverse da tre anni a questa parte è cambiato totalmente il mondo per noi che ci occupiamo di queste cose e il motivo per cui è cambiato il mondo è stato fondamentalmente dovuto ad Alma Alma ci dà queste immagini spettacolari vediamo le sottostrutture dei dischi e a questo punto davvero tutto quello che pensavamo prima non vale più dobbiamo rivedere totalmente tutte le nostre teorie rivoluzioni di questi dischi e cercare di spiegare perché sono questa struttura complessa quindi la teoria prima di Alma era parecchio diversa era parecchio diversa il fatto è che ancora non c'è una teoria postata lo stiamo facendo adesso stiamo ragionando adesso come capire e come applicare a tutte queste profologie che abbiamo osservato cose che sapevamo prima quindi ora come ora questo è il momento in cui stiamo rivedendo totalmente le nostre teorie ovviamente cerchiamo di recuperare le informazioni che avevamo cerchiamo di capire cosa resta e cosa no però in questi anni appunto da tre anni fa c'è stata la prima osservazione di Alma più o meno dell'anno scorso abbiamo cominciato a renderci conto che dobbiamo seriamente rimetterci a pensare e adesso lo dicevo più moderno ma stiamo facendo adesso appunto sta trasformando la nostra percezione di rischio protoconialità e quindi appunto ci sono molti punti oscuri adesso non posso trattarli tutti nel dettaglio sono anche cose complesse vi ho spero spiegato bene uno dei problemi più interessanti è quale è l'origine di tutte queste sottostrutture che osserviamo ma ce ne sono anche altre per esempio non è affatto chiaro quanta polvere ci sia vi ho detto che il rapporto è circa il 99% del suo 1% polvere ma questi numeri sono diciamo così come ogni di grandezza in realtà esattamente capire quanta polvere ci sia è molto più complicato di quanto appaia e sembra che ciò che pensavamo non si è vero e tra l'altro la domanda interessante è se c'è abbastanza polvere per formare i pianeti e l'altra domanda che non sappiamo è qual è l'evoluzione dei disi su tempi scana molto lunghi questo purtroppo è una domanda a cui non possiamo rispondere con le simulazioni queste simulazioni sono simulazioni molto complicate che chiedono tantissimo tempo al computer ciascuna simulazione che vi ho mostrato viene fatta non su questo computer ci sono computer dedicati con centinaia di core che funzionano in parallelo e una singola simulazione può metterci due settimane di continuo calcolo su una di queste macchie e noi riusciamo a simulare 10.000 anni se ci va bene se lo facciamo girare davvero a lungo simuliamo 10.000 anni di evoluzione del sistema questi dischi protoplanetari hanno una vita di un milione di anni e quindi il tempo scala di evoluzione su tutta la loro vita non è accessibile al computer adesso quindi questo dobbiamo fare dei modelli un po' diversi perché queste sono cose che dobbiamo ripensare e diretti con questo è tutto non penso di avere altri slide finito qua grazie davvero grazie credo che sia stato davvero uno degli interventi più interessanti che hanno voluto diciamo certo a sto a fine forse diciamo la trista non siamo non siamo vecchi ma neanche giovedì e quindi grazie davvero saremmo poter trovarci penso ci saranno io ho qualche domanda magari sentiamo se c'è qualche domanda del pubblico poi andiamo a qualcuna da qualcuna a chiedere una domanda che la mia possibilità è che influenza possono avere i venti stellari in questo momento e più o meno si è riuscita a capire comunque bisogna stare attenti perché queste sono stelle giovani quindi le stelle giovani hanno proprietà di eventi completamente diversi rispetto alle stelle più volute una cosa molto importante piuttosto che i venti stellari sono i venti del disco quello che avviene è che la radiazione stellare essenzialmente produce un vento dal disco cioè il vento è totalmente dominato dal disco più di dalla stella quindi è anche questo un effetto molto importante sull'evoluzione sul tempistale che stiamo dicendo quindi questi dischi evapono da poco a poco con il tempo e appunto gran parte del vento dell'autoduto è tutto questo che stiamo lì quindi possono scoprire gli avanti più piccoli più distanti assolutamente sì esattamente così vi mostro di nuovo quel grafico come vedete Giove sta dentro lo spazio di scoperta cioè attualmente non lo possiamo scoprire Giove nel 95 non lo potremmo scoprire diciamo la riga questa riga diciamo il limite osservativo è una riga che fa così ok attualmente è qua allora era qua sopra ok quindi allora Giove stava fuori ma adesso lo possiamo trovare che è migliorato lo strumento mi pare di ricordare che si parla di differenze di velocità radiale di 5 metri al secondo su velocità che non le altre si attestano sui 220 20-230 km per seconde corretto quindi la frazione la misura che viene effettuata è veramente piccola un'altra cosa che mi viene a mente l'immagine che abbiamo messo diciamo per far creare è un effetto macroscopico è ovvio è molto piccolo di questo questo è un po' pensiare perché c'è l'effetto di un pianeta sul sarebbe veramente molto molto piccolo assolutamente sì ovviamente questo è sostanzialo un timino per mostrare come funziona è molto meno molto meno pronunciatoli così sono effetti molto piccoli questo vuol dire che la precisione dello spettronofo deve essere davvero enorme e soprattutto deve essere stabile nel tempo cioè la cosa importante non è semplicemente avere una precisione spettrale diciamo che la riga sia abbastanza sottile ma dobbiamo essere sicuri che nel tempo questa riga sia stabile perché se no ci confonde tutto scusi potrebbe anche essere mitigata dalla presenza di un altro pianeta all'altro pofino la cosa diventa ancora più complicata perché ovviamente qua siamo fortunati 51 legacy è bellissimo perché è una una sinusoide perfetta è complicata da molte cose da qualsiasi secondo pianeta un terzo pianeta che può cambiare completamente la forma del motore della stella abbiamo detto che siamo sinusoide ah ci sarà un modo periodico ma con tantissimi periodi dentro quindi sarà molto più complicato il periodo del motore della stella non solo ma le orbite sono eccentriche e quindi non è che c'è una sinusoide precisa quando il pianeta è al pericentro va molto più veloce e quando il lato è al pericentro va molto più lento e quindi è molto più complicato di questo il caso migliore però si può fare e lo facciamo comunque anche diciamo la variazione della velocità reale è più accentuata se abbiamo il piano di talese un po' nel list giusto? sì quindi veramente noi abbiamo scoperto una grande quantità di pianeti su casi che sono veramente senza che sicamente molto più lontari perché dobbiamo avere sia con il tesoro dei trasiti ancora di più che con questi metodi la massa di possibilità ce l'abbiamo se abbiamo in realtà la cosa è complicata di così perché purtroppo c'è una degenerazione nel senso che l'effetto identico sulla stella ce l'abbiamo o con un pianeta grande ma con una orbita inclinata o con un pianeta più piccolo ma con una orbita favorevole e non possiamo distinguere le due cose e quindi il metodo della velocità radiale non ci dà informazioni sulla massa del pianeta ci dà una combinazione di massa e inclinazione quindi un singolo punto se questi pianeti fossero tutti osservati come velocità radiale cosa che non sono di sonno di tratti ma se fossero tutti i pianeti di velocità radiale un singolo punto non siamo sicuri della massa la massa può essere anche molto più alta nel caso in cui siamo inclinati quindi il singolo pianeta potrebbe anche essere una stella ok quindi oggetto per oggetto non si può dire quello che possiamo dire è che statisticamente l'insieme di questi oggetti sono una popolazione planetare perché magari il singolo oggetto sarà molto inclinato quindi si trova per sopra ma è assai probabile che tutti quanti siano molto inclinati ok c'è una distribuzione di inclinazione il transito e la velocità radiale insieme sono perfette perché l'uno e l'altro riescono a distinguere l'inclinazione della massa quindi per quei casi che sono stati osservati sia con l'uno che con l'altro la sappiamo sia la massa che l'inclinazione perché la combinazione di velocità radiale del transito rompe questa degenerazione e quindi possiamo sapere tutte le informazioni insieme la gestione dei dati di Alma come avviene? se so vengono resi pubblici c'è un periodo diciamo ci sono sei mesi di tempo in cui sono privati per chi ha fatto domanda allora funziona così l'arma noi decidiamo di osservare una certa stessa chiediamo il tempo d'Arma e d'Arma si dà il tempo quindi d'Arma fare osservazione e ottenere i dati perché l'avete chiesto voi perché l'abbiamo chiesto noi noi abbiamo chiesto di osservare quella stella e l'abbiamo chiesto loro ci hanno dato il tempo e l'hanno osservato quando loro prendono i dati li danno a noi e a quel punto noi abbiamo sei mesi di tempo in cui i dati sono nostri dopo i sei mesi i dati vengono rilasciati tutti quanti quindi diciamo noi abbiamo questo vantaggio di sei mesi rispetto a tutto il resto del mondo però anche altri ma l'hanno chiesto delle altre osservazioni magari altri hanno chiesto delle altre osservazioni loro ci hanno dato le loro diciamo di chi è Alma Alma è una collaborazione fondamentalmente dell'ESO l'ESO è quello che ci mette di soldi quindi è europea fondamentalmente però è anche in collaborazione con una quota più piccola di finanziamento americano che è giapponese il grosso europeo però c'è una frazione anche americana e giapponese e appunto quando mi dico che io devo correre a scrivere qualcosa è proprio questo perché cerchiamo la concorrenza di Trump e siccome letteralmente ogni settimana viene fuori un nuovo disco con una nuova struttura noi dobbiamo essere pronti là a dire ok qua c'è questo pianeta le teorie più note la fisica più importante che regola i processi di simulazione allora di base la cosa fondamentale è l'idrodinamica quindi c'è l'idrodinamica le equazioni dell'idrodinamica che noi dobbiamo risolvere questa è la cosa fondamentale quindi sono quelle il secondo più importante è l'accoppiamento tra il gas e la polvere quindi l'attrito e l'aerodinamica della polvere il secondo al terzo posto metterei la gravità ma se fosse prima il terzo posto lo stiamo forse a qualcosa più importante perché chiaramente è idrodinamica in un contesto in cui la forse gravità è l'automobile e poi una cosa che io ho sottovalutato a lungo nel corso degli anni perché non è un campo che mi piace molto ma mi vedo quanto che se non è importante è la chimica la chimica è importantissima perché tutta questa dinamica dei grandi polvere dipende da quanto sono grandi grani da qual è la loro composizione cosa di questo tipo quindi dobbiamo sapere quali sono le reazioni chimiche che avvengono in questi dischi protostellari che ci determinano se abbiamo più grandi millimetrici che micrometrici o cose di questo tipo quindi avere dei network chimici noi ancora non lo facciamo le nostre simulazioni di la chimica non ce l'hanno noi assumiamo che ci siano una polvere fatta in una certa maniera però diciamo il futuro prevederebbe di accoppiare l'idolina aramica con la chimica a me la chimica mi piace molto come questo esattamente alla fine è quello che dovrebbe arrivare a quello in realtà è uno step molto precedente nel senso che non siamo non è chiarissimo la loro struttura anche meccanica diciamo geologica non è detto che siano rocce è probabile che possono essere oggetti più porosi poi sicuramente devono andare incontro a un processo di compattazione che porta alla promozione del bandriti però probabilmente in questa fase siamo ancora in una fase in cui sono più porosi che non quelli del sindangolare i condoli tra l'altro sono molto interessanti perché come si formano questi condoli indica che questi soggetti sono soggetti a forti variazioni di temperature quindi a shock e questi shock sono probabilmente dati da alcune delle instabilità idrodinamiche che avrebbero in questi dischi non ne ho parlato all'alguno però è un tema anche interessante un tema di diversione che si infondano in un piano del gioco esatto mi ha sollevato il punto sul fatto che il 1% di povere sia sufficiente c'è un piano B sì io non ci credo io credo più a per ora che il piano B c'è un piano B che è una teoria che dice che la formazione dei pianeti è totalmente dipendente dalla quantità di polvere ma che dipende essenzialmente dal gas cioè i meccanismi di formazione di meteorismo sindalitario fondamentalmente sono due appunto A è fin se vogliamo A è quella standard che fino ad ora è stata accettata da molti che parte dalla polvere la polvere è un processo molto lento il più tardio si perde moltissima polvere quindi bisogna stare attenti a quanto ce n'è cresce diventa sempre più grande si è porosa si compatte e forma le fondridi e poi diventano le testi e poi forma oggetti rocciosi e infine se la massa diventa molto grande su questo foro su questo duplo roccioso arriva un sacco di gas e si fa maggiore un processo molto lento con vari step che partono dalla polvere la seconda teoria è la teoria che si chiede la responsabilità gravitazionale cioè in cui un disco ha tantissimo gas molto gas e nelle fasi iniziali potrebbe avvenire tanto gas che genera delle spirali analoghe alla spirale delle galassie queste spirali si frammentano se l'improggio la spirale diventa così dentro che si formano una serie di frammenti e questi frammenti sono pieni in questo caso la polvere non è neanche necessaria questo meccanismo ha il problema che forma Giove ma non forma la Terra e diciamo ti farebbe piacere che la Terra si possa sformare e quindi non risolvi tutte le cose però potrebbe essere che in alcuni sistemi magari questo meccanismo dominante in altri invece un altro e tra l'altro che le spirali ci sono sappiamo abbiamo visto tantissime spirali è un po' difficile perché vediamo fa spirale super allora in questa spirale qua potrebbe dire perfetto come una galassia e quindi uno potrebbe pensare che il meccanismo che forma la spirale qua è lo stesso meccanismo che forma le spirali delle galassie che sono queste disabilità gravitazionali il problema è che non è in unico semplice spiegazione vi ho fatto vedere che un pianeta pure forma le spirali e noi ci troviamo sempre con questo dubbio se noi osserviamo questa questa morfologia che cos'è che un pianeta ci dovrebbe essere in questo caso ci dovrebbe essere un pianeta qua che forma la spirale oppure semplicemente perché questo disco è così massiccio a così tanta massa che diventa instabile in forma spirale questo non lo sappiamo o almeno non lo sappiamo completamente c'è il dubbio però il dubbio è un dubbio con la giornata se questa unità è una funzione di un piastro possono andare a dire una parte come se è stato di un piastro o c'è una cosa totalmente astrusa che si può spiegare a questo punto no dunque allora l'analogia è molto forte e quello che sappiamo è che le barre dipendono anche da quantità nostra del disco quindi avere strutture con pochi bracci o con molti bracci dipende da passare avere molti bracci o pochi bracci nella spirale dipende da quanta massa c'è nel disco se abbiamo una massa molto grande possono avere pochi bracci o la formazione di barre per avere le barre una cosa fondamentale è di avere stelle e non gas ok cioè le stelle qua piccole discussioni tra me sono non condizionali ed è questo che fa si dice la parla le orbite si devono orientare in maniera molto particolare per fare la barre se c'è un gas il gas non permette di avere queste orbite particolari quindi qualunque struttura di barre è distrutta rapidamente e restiamo con l'aspirante e poi l'ultima un po' più generale scriverà come iniziare delle risorse a parte a parte la nota che ovviamente quella che vediamo non è una correlazione perché manca parte diciamo dello spazio di parametri ma esiste qualcosa più simile a una correlazione se introduciamo le caratteristiche delle stelle per esempio i giocatori sono un giorno a stelle grandi una tona sicce o no il motivo per cui è no è perché è sempre un motivo di incompetenza ci potrebbero essere queste correlazioni però la gran parte di questi clienti sono attorno a stelle che hanno la massa del sole proprio la stragrande maggioranza e il motivo per cui è così è perché quando andiamo a fare le stelle per scoprire i tenenti cerchiamo sempre attorno a stelle di tipo solare da poco abbiamo cominciato a vedere stelle più piccole però un po' più più piccole è assolutamente non completo quindi non posso dire se ci sono correlazioni sulle nostre se lo facciamo in bimbi di stelle questa limitazione della scelta delle dimensioni delle stelle legate semplicemente il fatto che noi cerchiamo un'altra terra nel senso che il primo motivo è questo perché vogliamo cercare un analogo del sistema solare e quindi tutti quanti siamo interessati a vedere se le convenzioni in realtà ci sono anche altre motivi perché le misure di velocità artificiale per esempio sono molto legate all'attività stellare nel senso che le righe stellari devono essere abbastanza sottili ok per poter misurare il loro spostamento a livelli così piccoli se la riga stellare è molto larga di per sé perché se la stella è rapidamente rotante le righe sono così larghe che tutti gli effetti sono ampiamente mascherati quindi certe stelle sono limitate perché o sono molto attive cioè non sono stabili nel tempo oppure ruoto velocemente e quindi hanno anche le righe quindi insomma queste cose qua ci devono essere tutte in considerazione adesso abbiamo cominciato a capire che se noi andiamo a stelle più piccole possiamo vedere più piccoli perché abbiamo lo stesso effetto in termini di velocità su una stella più piccola quando è causato un tetto più piccolo quindi qua in fondo questi o il genio qua in basso questi sono tutti quanti osservati attorno a stelle piccole stiamo spingendo verso le stelle meno massicce è molto più difficile spingere verso le stelle più massicce il famoso è il caso di Trapistuan Trapistuan ha 7 terre 7 metri di tipo terrestre e però l'unestese Trapistuan è poco più di una bruna un decimo della massa solare quindi è al confine tra essere una stella e essere una bruna e adesso abbiamo cominciato a studiare questo ritmo di massa stellare però il grosso lo facciamo per l'altro risolto ma le 3000 che sono state eroate ne è morta qualcuna questo non prende tempo no sono tutte là i tempi i tempi sono molto più no il caso magari qualcuno era molto molto più no 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 interessanti questo è interessante la cosa interessante quando troviamo sistemi con multipli con clienti multipli una domanda interessantissima è capire la stabilità del sistema perché noi abbiamo detto sicuramente 4-5 clienti non è detto che siano stabili possono eccitare possono con il livello eccitare eccetera che si stanno rispetto all'altro cioè la dinamica dei corpi può essere caotica quindi il sistema può diventare caotico rapidamente e quindi non è detto che se non lo serviamo siano più con le sue state perché diceva all'inizio che i giganti gasosi non si possono formare vicino esatto di sicuro si spostano lo spostamento è ovvio quindi però volevo distinguere due cose uno uno spostamento quieto tranquillo un po' si muove un po' un'altra cosa è l'instabilità cioè se il sistema diventa caotico esplode e non sta più insieme ok noi siamo sicuri che si spostano i pianeti a causa anche della nuova interazione tra loro quindi in questo modo succedono e tra l'altro molto probabilmente le configurazioni orbitali finali sono influenzate da questo modo dei pianeti e da come il modo dei pianeti influenza la stabilità cioè i pianeti sono quasi sempre più o meno regolarmente spaziali anche nel sistema nel nostro sistema di isolare c'è una certa regolarità nella distribuzione delle istanze e questo probabilmente non è casuale è probabilmente legato al fatto che le configurazioni statili di equilibrio ritienono che non stanno più vicini e quindi appunto alla fine il sistema si riaggiusta si sposta un pochino fino a trovare la loro configurazione di equilibrio e questo può avvenire sia per interazione di pianeta sia per interazione tra il pianeta e il disco quindi c'è una migrazione che avviene sin dall'inizio quando sono all'interno del disco e poi c'è una migrazione successiva quando il disco si è andato diciamo la poca probabilità di una pianeta la forza del pianeta diciamo anche Jupiter quindi c'è una stella che rivela il fatto che lì c'è una stella che porta il materiale per il fatto che siamo qui vicino alla stella è un pochino un po' un po' ma anche semplicemente c'è una certa densità del disco che il disco non è che possume le densità altissime se stiamo molto vicini alla stella c'è una densità che non è altissima diciamo l'area dell'orbita è molto piccola se stai vicino e quindi per una data densità è piccola c'è un'area molto più grande e ci può essere molto più maggiore di cerno bene io a questo punto direi che ringraziamo ancora il professor un grandissimo applauso grazie 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 quindi viene in mente diciamo che quelle della mia generazione che hanno qualche capello bianco magari anche più abbiamo vissuto credo un'epoca straordinaria perché quando erano ragazze davvero non c'era nulla mi ricordo un articolo una frase di un astrofesico che commentando le prime immagini a raggi X con i pixel grandi come televisori raccontava come se avessimo visto un universo dal buco dell'assertura e adesso fossimo usciti al perro cazzo che adesso siamo altri che non c'erano aperto quindi lo bene esatto lo sono l'altro l'aspettiamo magari prossimamente è un libro divulgativo su questo e lo faccio di te ti sei messo allora aspettiamo magari per risultare le osservazioni future magari chissà che cosa potremo scoprire nel frattempo con tutti i vostri interventi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti